Oggi siamo di Radio Life 99.9 Un felice 2 giorni per venire al programma Tango Stad di Brunch 99 Per aver guardato il 29 di ottobre del 2019 A mezza Tino da Palm Che hai preparato per presentare il programma che hai una maniera per acostumare Non stai passando qui, non stresce Pavo E notizie, notizie Non stai sapendo che non stai passando notizie di e-corrante Non stai passando, non stai invitando ma è permesso di una informazione del programma Che sei davvero di caso E adesso abbiamo un'ora che ho 10-2 ore di merda Non stai come ricevendo le informazioni No stai andando con le immagini Tanto via di nostra pagina di Facebook ma anche attraverso il nostro canale 24 di E-Training Grandi che sta trovando il luogo nel aeropuerto Flamengo e parteci ma inti qui un rato passato in carreta di 10 ore, non so se miro che non si arriva e salva con E-Training Grandi che caminano così come se fosse un accidente arriva a pista di aeropuerto non so come se fosse un avion qui, non so se è un differente departamento che sta involvendo e attraverso la situazione che si presenta e qui miro anche alcune immagini che non si riesce a capire, non so se miro che tutti i turcini che sta attraverso la pista di aeropuerto che sta trovando il luogo, non so se miro che sta involvendo e attraverso la pista di aeropuerto ma anche se miro che ci sono stati un rato passato, stanno corriendo in carreta internazionale e ora miro che faccia parte di carreta internazionale di E-Training Grandi che sta trovando il luogo ma anche se mi sono stati preparati, non so se mi sono stati preparati, non so se mi sono stati arrivati a ieri il risultato di tanto il sorteio è un numero buono e anche il risultato di un sorteio è un numero corso il primo premio è il numero corso è il primo premio è il numero 434 3-4-1-4 Il secondo premio e il 13 ultimo premio Nacorzou 1566 1-5-6-6 1566 Sali di un buono ieri Nacorzou Il risultato di un sorteio Nacorzou Il risultato di un sorteio Nacorzou Il primo premio Nacorzou Nacorzou 7700 7700 Il primo premio Il risultato di un premio Il risultato di un 1289 1-2-8-9 Il risultato di un 3 ultimo premio Nacorzou 673 0-6-7-3 Sali di un buono ieri Il risultato di un 3 ultimo premio Nacorzou Nacorzou Il risultato di un numero Nacorzou Il risultato di un numero Il risultato di un numero Nacorzou Il risultato di un numero Il risultato di un numero Il risultato di un numero legal e consciente secondo me forse sono per rendere qualcosa quindi non per la mia vita ok questo è il numero di salire e la mia vita con i menù i menù di differenti i restauranti non si donna la mia vita di nuovo la mia vita qui come la mia vita e la mia vita poi se promete con i nostri e la mia vita è il numero di iosbar iosbar si tu arriva c'è corona net po bo di oficina di dottora bernabella e non è iosbar è difficile colore il blu e non è iosbar c'è 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 cuigra cabritus toba galinhas toba bacas c'è 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 rabo di bacas toba galinha e rala c'è c'è filet di galinha c'è c'è por c'è 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 dito nanti mulato nanti drado asata a iosbar in special di dia e yambo kufunchi nanti yambo kufunchi nanti perep stobata med special in sopi di dia e sopi di carni baka sopi nanti c'è 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 iosbar riba kaya corona 77 6600 ta nang nume di telefon pa paposte al plato nanti ora voy a botanya 717 6600 e nume telefon di iosbar mi ta keda mens ora riba kaya corona in anang mi tabai awora ki na all-in-one bar restaurant all-in-one bar restaurant all-in-one prepara sopi di mondongo nanti cabrito stoba piscap pico dito nanti rabo di baka stoba galinha stoba nanti galinha asa 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 di all-in-one bar restaurant bakiyaw kututu banana asa 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 795 00 17 795 00 17 di all-in-one bar restaurant bo mesaj di sorg di merda da bati un bay di baste al bo plato mesura basino qui bo dale plato dan suculento tambe di restaurant nan kono se kaba di mencione di famiglia albaracin famiglia polo nan di di mark chengen fabrikana china si entrega tambe di undie SUV nan akhi na undie miyoh graduado nan di liceo boneriano durante di anoche di graduasyon da buzy motors arregala undie miyoh unie miyoh nan kwa slag pa lo kual ta e anya eskolare e sa keresultad di ta bryan albaracin e eta e miyoh kwa slag pa havo anto komo kubryan nemomento na kyi si kustu estudiyo na ulanda et studiando na ulanda sumayor nan is nan ku a rizibi e veikulo aki di biyerni ultimo din kura di city shop kuminda ku e veikulo ng di dabuzi motors ta parainan e veikulo di marca chengen kwa pabien 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 ng famiha albaracin tambi ku ng veikulo di marca chengen ku nang rizibi di dabuzi motors e manera ku sa abri e programa tambi indicando un training un ensayo grande riba terreno de aeropuerto flamingo na biyernan relacionato sa kitambi non sa conversa non sa conversa ku senyora luci nicolás anto eta e jefe interino di departamento di comunicación di OLB naturalmente OLB tam eta involvi de entere ensayo grande aqui junto kuturi oto partner pero non sa conversa sinyora luci nicolás basina ki eduna mas informasyon tambi lo tokan de ensayo aqui kutatumando loga ne momento nang aqui kutus papiando ibo tabai mira tambi imaginang ne momento nang via di nos pagina di facebook pero tambi at través di nostre canal 24 lago nos vai entrevista kutus sinyora nicolás bon en verdad sinyora kutabai ti un ensayo de calamidad basta grande a vena via un via de cara tres anha nos mese tenen un ensayo assina es aqui para nos preparar para si un grave pasa de futuro e tambi pa nos mostra autoridad non concerni cu nostra clapa cal que particularidad of calamidad ave nos tin es situacion aeropuerto tambi nos simula kutin un avión cu problema de un comunicado que nos explica tambi cu lo por vai u hum at sali pero paturina queda tranquilo pas tur lo que bo u mese si bota e banda si bolo rega e banda dopa so kailo da sera si bote en la vacuna sali dirección di bia of na tele ambulans corre velocidad alto sirena etc etc tur e cosa forma parte de ensayo grande de calamidad que tomo lugar es ensayo grande que te imagina que te diferente partner que te envolvi si 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 siguro siguro que me imaginavo que cuerpo de polista envolvi servicio médico brand ver nos departamento de cuido diferentes órganos envolvi tim colegas de RCN tam que partecipa tur rende con ames expertizio y naturalmente tam me botín tim bisa den e caso a que sa gèber interino que vengorge y lo que nos llama tim de manejo e land beleids tim cuta reuni antropa wak ora e conta tecla e calamidad apresenta quito vai tar horario de ensayo aqui bono esto comienza for de main trempan ensayo mes comienza algo despues di nuevo pero imagina para garantizar que costa vai manera ta plane para nos tren que se requerir como será caya quate caya nang que vai tan será bon por ejemplo bo ting e cambio de trafico para hendo que viniendo de playa e que vai por dirección de sorobong si bota bine de playa do bisa pas a rotonda de bonaco no borri baraco camin de serra for de mergers si bota bai sorobong e ori bom este core via terra corra of nikiboco zu extreed pas fel dibala etc etc si di bai di playa pa bel nam e ora en an core en ruta di nikiboco zu se labai stret core viva camin di asfalt pasa delante di chaparral antran takita na caia statias van abs si core stret banan yegan en distinacion tim tambe cambio nam pa estang kuta pini di sol company dirección playa nan tambe tinko core via camin statias van abs que ruta di camin de papai chaparral un dar momento nantepasa delante e la sonrisa jane posige dirección pa playa puesta carretera delante di aeropuerto nota accessibili ma inta no no por pasa no sta un llamada naturgene tambe pa no sta comprande co e costa facioso no sta comprande co publico lo que persiste kikota pasa pero ten cuento co pa e nos por jase e ensayo manera eme seta moda conos po garantizac en futuro si algo presenta mes nos tuta clapa actua nos tinko toma cierta medida di precauzión automobilista na lota punto te co kio re cambio de trafico tabaita caita sera di mitai 9 di ma inta te un or di mardia senhora nicolás am tur classe di exito ao e co ensayo grandiac e despues di mardia nos lo tuma contacto con aboy con aboy ok mas se ita senhora luki nicolás et e efe interino de departamento bai con se conversar con e patok a bopo an e informacion informacion di lo che a sussode ave ma inta ofta tomando lugar tam e momento nanti co nos tap a piano pois e diferente parte nantur estango te involvi den tipo di caso na que nantura reuni ave ma inta trempan na caserna di brantwer e despues jai tambe despues di a pesei popora escucha tambe alcun rato passare differente sonido di sirena ma sopra naturalmente botin poliz involvi botin tambe ambulanze involvi brantwer tambe come se sali mesura patente che sa che pero tambe con un click marcio sei con mesura despues di arisi bm al a sera a aeropuerto flamingo mesura tambe buttando con new n non poi aeropuerto nel momento nanke pero manera con nos menciona tambe turi sa relaciona co ensayo e training cu tomando lo ga ma inta na aeropuerto flamingo despues di cada año botin co hace tipo de ensayo nanke e nos comprande tambe de nos fuente nan co ta ye ga na training aqui co ting algun cos nan anche chiquito pero ting algun cos nan que vai mejora pa din futuro si algo sos demes e vai mio pues tapese mes e tipo de ensayo nanke ting tumal lo ga tambbe pa si algo sos demes tu repartan nan tu estang involvit ta bom prepara pa e tipo di caso nanke ta 22 minuit pasad di jesun mita kere ta buon momento pa nos vai cumpli un break aqui din brunch 29 ora con sebeg mita baby ni kumas di noticia nan bab break non sebeg con jesun skibi dirigi pa su like a top and barrett lorenz muenam fruz di era 9 y 10 de november na courtyard marrient recorda que cuponanta limita busca bocate mes hora pa 25 dolar so obtenible na lisa convenience store y tambbe na y xan t book store muenam fruz ste ten mi te atre nature discount digizel ta invitavo wak pavo no perder e restaurant di momento na boneiro ta tasty bar steak house situa pegato t se be nant abri tortilla lunch ta di luna pa javier na pa 2 sordi mardia pa 2 sordi tardi and nanti un special di $3 dolar pa take away pero po sinta come dame and dinner ta di 6 sordi tarde pa 10 sordi noci ya sabri ya domingo da calo cal nantintur tipo di carne repai tenderloin sea line opi mask para reserva xong yamashete 8 2 33 jesun tasty bars take out not a pele grosso mita keba na e salt pier para medir sa gom patrara den ye sa patrara sin ain kego prove de mi boca me meru en de as masha esteris me se liba am cantilamang nostratum distante fai outro e nostrat canstam di ma cerca moda gui po ane vai vichar aqui voi steg lade no posso vertê que il grosso tempo sassi muy luk Grazie a tutti. 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 non si vai pone è due strutture blattame cutie inire toni correto cosa fina non si vai tirare i costi un po'corti ok ma cominciamo ma cominciamo ma gli indici non si vai a fare un po'corti si, non si vai a fare un po'corti ok mi dava i pone non si vai a fare un po'corti si, si, si a fare un po'corti qualcosa fresco che ho il suo freddo e poi i vincitati a fare un po'corti il risultato finale quindi noi abbiamo bisogno di prendere un po'corti Non c'è bisogno di più di più, ma non è meglio di più di più. Sì. Ma il sauce è che ci sono un po' di pancho e ci sono un po' di caldo, un po' di caldo, un po' di caldo, un po' di caldo. E ci sono un po' di puro o è un po' di caldo? Quindi e come, i panciati di Pana technology, un po' di caldo, i quelli e classrooms di normalmente quindi e i funzionamenti di che rispande. Quasi nulla. Sì, quasi nulla. Quindi la banana è fatta rapidamente. Prima di fare la banana con le butacchi, è parte della preparazione di sauce. È parte della salsa qui, quindi ci sono che ci sono fatta, 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 ci sono fatta. Allora, ci sono fatta, ci sono fatta di banana, sono fatta di ricche, ci sono fatta di ricche di ricche, però noi abbiamo fatta la 4 pita grandi quindi ci sono fatta di ricche di ricche, non sono fatta di ricche di ricche, non sono fatta di ricche di ricche, così non si fanno bravo in Puerto Rico che era quello di il nostro stare troppo. Allora, è stato un altro livello, di ricche di ricche di ricche di bacche di ricche. Ello che mi piace! Quindi abbiamo fatto un piccoloentes, mi divano un crioio e mi sape un tino non è facile sempre quando ho scusato un tino che mi ha cominciato e mi ha cominciato a sobrare e non sapevo un tino 8 mil buono la banana che si è usato è usato è usato un po' un po' un po' un po' e mi ha deciso di Tony cominciare a fare arroz e la banana che si è usato è usato un po' di carcota e non voorami non lo so cominciимо non lo so cominciamo death preparator allora ma non non ma 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 sì il Scusate Chef, Scusate Chef. Scusate, ci siamo preparati per fare un carcola di Jamie Cliff. Grazie a Jamie Cliff, saluto a Jamie Cliff. Con tutti i nostri ricetti. Ora che ci siamo a fare la Jamie Cliff, ci siamo a fare la carne di questa carne. Ci siamo a fare la carne di Dio, e le carne di Dio. Scusate, per me? Si. Poi usare la carne di arroz, o 2 o 3 bananze, non ci siamo a fare la carne di Dio. Eスマritta di Dio Toni, ma non c'è più di tipo. Sì, esti parlando di Dio Toni, la questione è di Dio Toni, e di Dio Toni, non, ma se stanno spesso a Dio Toni, chiede di Dio Toni, dalle Dio Toni, che sape i Dio Toni, perché si sape i Dio Toni, e la banane non si sape i Dio Toni, perché si sape i Dio Toni, perché si sape i Dio Toni? come per l'agga mesura mesura saluto Jimmy Clem, Shonan a me decomenci a Divo ciao ciao